Benvenuti a tutti ragazzi, eccoci ora in questo nuovo video su The Last of Us 2. Regà, un'altra puntata arrivavamo rimasti attaccati alla corda come un salame. No, in realtà no, stavamo cercando il luogo dove mettere la corda, però l'abbiamo trovato, era qua, tutto buggato. Vai, oh mato, un'ase e muori. Ok, andiamo avanti belli mei, ingranaggi per noi. Comunque ci sta piacendo veramente tanto il gioco, vedo anche voi nei vostri commenti, vi ringrazio tanto. Bello, bello, non mi aspettavo questo super giocore, me l'aspettavo comunque bello, ma qua siamo a livelli astronomici. Allora, fogliettino. Allora, già ci sta dando tanta roba, quindi preparatevi. Simon, spero che non dovrai mai leggere questo messaggio, spero di poterlo strappare e bruciare nel fuoco quando tornai da noi. Sono passate, non so quante ore, quando sei partito, sono uscito a cercarti, ma ho incontrato un gruppo di strani, cappucciati. Sono messo a gridare, mi hanno chiamata peccatrice, poi ho iniziato a sparare. Sono rientrato di corso e ho barricato la porta. Sento solo il rumore della pioggia, ma temo che siano ancora lì fuori. Devo scappare o restare qui? Sono completamente paralizzata. Page. Mi spiace questa stupida malattia, non mi ha voluto mandarti all'ospedale da solo. Va bene, va bene. Qui, robe strane. Allora, per collezionabili, shift ancora questi collezionabili. Parfavar. Questi sono i collezionabili. Comunque, ora dove si va di brutto? Non vedo porte. Vediamo un po' come siamo messi qua. Tutto al massimo. Facciamo un po' di frecce, dai. Facciamo qualche freccia, che non si sa mai. Ok. Qua, quattro frecce per noi, però non vedo... Ok, adesso abbiamo sbloccato l'altra parte, qua dove abbiamo rotto... Ma do la parte lì con la corda, ragazzi, micidiale. Allora, l'unica via è qua. Dovevo andare di qua. Cosa c'è qua? Prendi, prendi. Ma c'è solo questa via? Non trolliamo bene? Eh, raga, mi sa di sì. Credo che di qua si muore, se vado di là. A parte che non c'è niente lì. Ok, forse dobbiamo tornare indietro, raga. Vediamo se c'è sfuggita qualche... Qualche porta misteriosa. Qua sotto... Allora, qui è chiuso. Qui è da dove siamo venuti. Qua se mi butto di sotto ho paura che muore questa. Duttiamoci di sotto. Non morire, per favore, ok. Allora, qua c'è un cadavere, il cadavere... Eh, raga. Qua abbiamo letto, questi sono... Accoglie il suo amore, dice lui. Mmm... Non lo so se lo accolgo il suo amore. Qua non c'è nient'altro, raga. Adesso iniziano le parti. Enigmini time. Prendiamo ste forbici. Enigmini time. Qua non c'è nulla. E perché ci ha fatto andare fino là? Vabbè. Non lo so. Andiamo avanti. Andiamo. Andiamo via. Abbiamo fatto tutta sta fatica... Per niente. Allora, dov'era l'ospedale? L'ospedale mi sa che era di qua. Ospedalini, ospedaloni. Dobbiamo trovare l'ospedale per... Eh, ingatto. Per trovare degli indizi. Ma qua... Chiuso. Dobbiamo entrare qui dentro. Eh, come ci entriamo qua dentro? Da qua. Entriamo da qua? Mmm... Benissimo. Benissimo, dice. Eh, volevo. Chiuso. Sarà un bidone o qualcosa qua? Che ci può dare una mano? Andiamo qua. Ok, entriamo qua dentro. Qua troveremo forse qualcosa di utile. Rampa scivolosa. Eccolo il bidone. Allora... Esploriamo un po' la zona. Vediamo... Se ci può... Se troviamo qualcosa di utile. Mmm... Cioè, per ora è il bidone. Proviamo aprire qua se si apre. Ok, ok. Ecco. Eh... Come non incastriamo sto coso? Ok, bene. Bene, ma... Bene, ma non benissimo. Pericolo non lasciare cassonetti sulla rampa. Allora, dobbiamo trovare un modo per incastrare... Eh, però da soli come facciamo, cioè? Aspetta, eh. Aspetta, eh. Forse il cassonetto scivola. Proviamo un attimo. E poi appena è sotto. Scivola là sotto e noi intanto tiriamo su e poi lo molliamo. Proviamo così, eh. Le tecniche dell'ozione. Vediamo se funziona sta tecnica. Lascialo. Corri, 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 corri. Eh, vada solo. Come faccio? Eh, vabbè. Che so. Ma che so. Ma andrà, che so. Come faccio? È più veloce il cassonetto. Aspetta. Allora, tecnica è giusta, eh. Però... Proviamo adesso. Mettiamolo un po' più in alto. Tipo qua. Eh, ma lì non so se casca. Qua. Corri, corri. Corri, 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 corri. Ah, è mezzo in una, ragazzi. E queste sono le tipiche, le classiche parti. Allora, riproviamo, dai. Non diamoci per vinti. Il problema è che il cassonetto è più veloce di noi. Come facciamo? L1 per scattare. Ho capito L1 per scattare. Ah, spero, 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 spero. Sper, spero, 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 spero. Forse cade anche qua. Corri, 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 corri. Era buona, era buona. Tira su. Lascialo. Ah, ok. Va bene, va bene, va bene. È uscito. È uscito il bidone. È uscito. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Missione compiuta. Grazie, grazie. Modestamente... Ho fatto un bel lavoro, lo ammetto. Vai, Ellie, andiamo via per rifare. Ok, nuova zona. Vediamo un po'. Vediamo dove ci conduce. Qua non vedo niente io, eh. Proviamo a salire un po' più in alto. Oh, lele. Eccolo là. Ecco l'ospedale. Merda. Sembrava più vicino. È lontanuccio l'ospedale. Eccolo là. Hmm. Nuova voce sul diario. Vediamo cosa ha scritto Ellie. Credo sia questo. Trova il grande cartello rosso. Eh sì, è quello. È regalo ospedale. Però... Come ci arriviamo all'ospedale? Seattle... Conference Center. Prevedo un Easy Rect qua. Dobbiamo spaccare qualche vetro, sicuro. Perché sotto... De sotto moriamo. Vediamo se c'è un mattone o se c'è la bottiglia. Vediamo dentro di qua. Scendiamo la luce. Sembra disabitato sto posto. C'è una scala o qualcosa? No. Non c'è la scala! Attenzione! Quindi... Spera, spera, spera. Proviamo da qua. Ma... Qua ci facciamo del male, secondo me. Eh... Parkurito, parkurito. Eh... Parkurito, parkurito, ma... Ci facciamo male lo stesso, vabbè. Proviamo. Vai! Vai! Olè! Sì, facciamo prima buttarci da là, comunque. Qua penso che non moriamo. Guarda, è troppo alto, che dite? Ma no, da sotto, sotto, sotto c'è lì. Vai! Ufff! Madonna, ragazzi! E mo? E mo basta. Vai, è troppo, è basso. Qua possiamo andare giù. Ok, siamo giunti a terra. Troviamo ora una porta, che forse questa è buona se non è chiusa. Mazzanna, ragazzi. Ditemi una volta che l'ozione ha trovato una porta aperta. Mai. Exit, dice qua. Qua c'è la scritta exit, ma... Io ho dei seri dubbi a riguardo. Eh, si aprono sempre queste porte qua, che non servono a niente. Vabbè, dai. Dobbiamo proseguire qua dentro, allora. Allora, qua è buio, eh. Qua c'ho paura che mi spunta fuori, spuntini, spuntoni, qualcosa. Puzza. Di marcio. Cosa c'è qua? Scusatemi, raga, ma... Ogni tanto do un occhio e se troviamo qualche proiettile, qualcosa, perché sennò qua siamo rovinati. C'è niente. Mi fanno esplorare a vuoto. Metti a meno qualcos'è. Cos'è? No, 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 no. Cos'è quella roba là? Cos'è amo sta roba? Sta a scaricare la batteria qua. Cos'era? Un gatto? O una bestia? Oh, roba buona qua. Bruttissima storia. Qua, qua, qua. I bagni putridi. Mmm... Tre colpi per noi. Ecco che inizia a darci... Inizia a darci proiettili. Brutta storia. Ma cos'era quella roba là che è passata, ragazzi? Adesso mi è venuta la curiosità. Non è che erano i cani... I cani randagi. Altri proiettili. Eh, raga. Ve l'ho detto io che qua spunta qualcosa di brutto. Ma qua non se va. Però su sì. Non te famma... Oh, oh, oh. Cos'è sta roba? Stalker. Stalker. Ma cos'è? Raga, abbiamo nuovi mostri. I stalker. Quelli che stalkerano. Sì, ma questi... Mi sa che... Perché sono scappati? Boh, non ci hanno attaccato. Forse hanno paura della luce? Allora, questi sono zombie nuovi, raga. Io non so... Eh, non troviamo il modo, Ellie. Non ti preoccupa. Che lo zione non ti lascia in difficoltà. A meno che questi sono imbattibili. Premiere 2 non stai mirando per ricaricare. Che cavolo di consiglio è? Pensavo che mi diceva qualcosa riguardo... Questi stalker qua. Al massimo. Abbiamo avuto al massimo? Non l'abbiamo mai al massimo, la roba. Perché siamo veri pro. I veri pro hanno sempre avuto al massimo. Sento... I rumori strani. Oh no, no, no. No, 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 por favor. Cos'è sta roba? Oh, meh. No, 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 no. No, 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 no. Sono proprio stalker questi. Ti seguono. Oh mio Dio! No, no! Eh, si è. Sì è Ma cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Non capisco Non capisco, regà Eh, ce li ho dietro Vedete, si nascondono Non riesco a capire No, 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 no Sì è, dove è spuntato questo? Madonna Sì, vabbè, dai, un'altra Quanti sono? Corri, 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 via, 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 via Sì, quanti sono, regà? Sì, vabbè Corri, 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 corri Sì Corri, corri, corri Ragazzi, avevano poca vita anche Ah, non so come fare questi, regà 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 La vedo grigia qua Ammazzalo sto Allora, regà Qua la situazione È critica, eh Allora, usiamo medikit Anzi, forse due anche Mazzu, una, ragazzi, questi Tanto ne abbiamo di roba Ecco perché eravamo sempre full Perché adesso c'è la parte Allora Facciamo un po' di medikit Allora, ne abbiamo fatti fuori parecchi, ma Non tutti Qua il problema è in munizione Non so, usiamo il fucile a pompazza Ma da dove mi sento? Non capisco Uh Tomatona, ragazzi Via, 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 via Regà, non capisco qua Mi trovo in difficoltà Seria difficoltà Non so Da cosa mi sentono So solo che è pieno qua I stalker, regà Sono brutti questi, eh Forse dobbiamo far piano Io devo cercare di uscire da qua Questi stalker qua Sembra che... Che stress, ragazzi E muori Andiamo a cercare in altri Dove stanno? E scappano, vedi, vedi Dove sta? Scappano quando li punto Forse ti prendono alle spalle Questi Qua c'è da roba Dobbiamo prendere Forse hanno paura Hanno paura Sperate, due colpi Qua c'è il ben di dio Bellini Ormai penso che È rimasta l'ultima No, ne abbiamo ammazzati E muori Ok Li abbiamo ammazzati tutti? Ok Uff Mazzuna, ragazzi Questi sono brutti, eh Aspettate un attimo Ok Abbiamo tutto al massimo Facciamo un po' di frecce E dato non le uso Vabbè Dobbiamo uscire da qua, ragazzi Anche alla svelta Dobbiamo andarcene da qua Anche Alla svelta Dobbiamo trovare un'uscita Ma che schifo Mamma mia I stalker Ragazzi sono brutti, eh Allora Io uscirei dalla finestra Però non Ah, sì Abbiamo una bottiglietta da rompere Usciamo da qua Sì E saliamo su Spero che non ci siano altri stalker Sti stalker sono pericolosi, eh Mazzuna Guarda E devo guardare Ah, l'ospedale Siamo quasi arrivati all'ospedale Allora, su non si può andare Immagini, devo fare un salto Eh, sì Dai, un piccolo salto lo devo fare Vai Saltando Su, giù, su Siamo spuntini, spuntoni Altri, altri di quelli No, eh Aia Eh, da qua no Dobbiamo andare su O giù Devo rientrare Da dove rientriamo? Da qua non si rientra Forse devo andare da sotto Proviamo un attimo da qua Ah, ok, da qua Eh, ecco E qua, ragazzi Sarà pieno di stalker Ma Devo tornare in strada Eh, devo tornare in strada Al massimo Ma come al massimo Che sta a dire? Che è successo? Sì, ve l'ho detto Che è pieno di stalker qua Eccoli, eccoli Io non so come ammazzarli Sti stalker Oh mio dio È pieno qua, raga Mi sa che questi Con i rumori Si svegliano Prendiamo questa Dobbiamo andare piano Dobbiamo fare piano, raga Mi sa che è questo il trucco Anche prima comunque Abbiamo fatto piano E ci hanno beccato lo stesso Boh Devo capire bene Il funzionamento Di sti stalker Magari ce n'era solo uno Ne dubito però Ne dubito fortemente Sentite la musichetta Tutucutututututu Ecco Non ne spuntano Altri qua No Ma hanno visto Dai però Sti stalker Assolutamente Stalker Veramente Stalker E non è la morte E muore E poi d'altra Via 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 Regà però Anzi Poi gioca così È chiusa Incredibile Oh incredibile Vabbè dai Madonna E muori Sì vabbè regà Ma qua la situazione è critica Qua la situazione è critica Ma sto coso non guarisce niente Sto coso qua Ne devo usare due Per riempirmi una via neanche Ok dai Facciamone un paio Quanto ne abbiamo di materiale Ecco perché eravamo full Comunque qua Non si apriva Cioè tre ore da prima Ecco Ecco Cori 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 C'è vabbè Sì è come no C'è vabbè Madonna ragazzi Sti stalk Qua 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 Ecco Vala pure c'è tappo E mo Ancora s'accolla questo Ancora s'accolla Oh mio dio Come t'accogli Però frate E l'evase Impressionante Sta puntata Il livello del gio E mo siamo nella fognatura Siamo nella merda Ragazzi Nel vero senso della parola Nelle fogne Cioè eravamo vicino all'ospedale Mo siamo finiti nelle fogne Però sti stalker Ragazzi sono brutti Eh Bisogna capire Come funziona Lì Vediamo qua Cosa troviamo Io odio pure Quei cosi là Non solo Seattle Vediamo qua Se si apre Ma ho seri dubbi Ah Volevi Dobbiamo proseguire Ah c'è una scala Qui pure Beh Che è sto rumore Abbiamo varie vie Da provare Che non ti riesci a grappare lì Ellie Non me Madonna Non me dire queste cose Ellie Cos'è qua Plastica Inquinamento No Non sale lì Ma qua quando c'è l'acqua C'è roba da fare sott'acqua Io già lo so No Si Si passa qua No Sali Ellie Non morire Soffocata Allora Lì non ci sale Non riesce a salire È troppo alto Dici Lì è troppo alto E non riesce a salire Quindi proviamo da qua Cosa c'è là Qualcosa Che lucica Un bastone Ma non so Meglio il coltello Che sto bastone Questo bastone qua Il bastone Delle follie Allora Quante passa No Viaggio nelle fogne Dove dobbiamo andare La stella non si arrampica Dove dobbiamo andare Non ne ho La malremota idea Di dove bisogna andare adesso Allora Esploriamo bene le fogne Magari Di qua Però la corrente è forte qua Sott'acqua Non lo so Non sto andando avanti No siamo fermi Qua la corrente è troppo forte Qua non si apre Ah ok Qua sotto Vai Qua sotto No se spuntano I nuovi stalker Mi arrabbio Oh Qua c'è della roba Va Adesso siamo a secco Quegli stalker Ci hanno fatto usare tutto No Mazzuna ragazzi Ma ha fatto via un colpo questo Mazzuna Brutto Essere Sgradevole Ma ha fatto prendere il colpo Tacci tua Poi ce n'è un altro qua Era mimetizzato The fuck Dio Vabbè dai Qua abbiamo rubato Preso tutto Sta porta Mo Ecco Inutile come Siamo di nuovo ritornati di qua Però abbiamo fatto scorta Ma il problema adesso Come Come arriviamo da l'altra parte Lei non salta Ellie Qua però abbiamo recuperato Un po' di scorte Mazzuna che paura Che mi ha fatto prendere Perché vedete È uguale È mimetizzato Lì al muro Vediamo se c'è un passaggio Ma non credo Dobbiamo trovare Enigma là adesso Non c'è niente qua Dobbiamo trovare Enigma Come salire dall'altra parte Enigma time Fatemi controllare bene Questo rumore Sicuramente non ne ho la più pallida idea Non ne ho la più pallida idea La proviamo da qua su Qua non sono ancora salito Magari c'è qualcosa Qua non ci sono ancora salito Dimmi che vai sui tubi Ellie Oh questa è la via Questa è la via Questa è la via Parcurito Parcurito Fino a là Non cascare Tanto so che ne spuntano Ancora di quelli Non è mica finita qua Regà Non è mica finita qua Vai Andiamo di sotto Non ti buttare Qua c'è la scala Vabbè Allora Non mi fido per niente qua Zona sinistra Vabbè dai Tiratemi fuori da qui A me me lo dici Ce la faccio più Ce la faccio più Tiratemi fuori di qui Che non ce la facciamo più Dove sbuchiamo? Perché fanno qui È un cavallo Ok Che cazzo sono finite? Quella è una bella domanda Dove siamo finiti qua È una bellissima domanda Questa è una domanda Da 20 milioni di dollari Dove siamo finiti? Usciamo Pioneer Square Vabbè Dove è l'ospedale? Ok Io sono qui L'ospedale Siamo allontanati di brutto Regà Dall'ospedale Ah sì Ci saranno cose Bellissime al parco Immagino Immagino Guarda Fischia Ecco già inizio Via che sta fischiando Guarda la gente impiccata Lì va Via 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 Scappa Non è un bel posto qua Oh Ma chi è? The fuck Dio Chi è? No Abbiamo una freccia Conficcata Tira via sta freccia Lì Fligo lo danni nel tempo Ah Va bene Eh non ho Non ho armi Adesso ho il fucile a pompazzo Fischia eh Fischiano Regà qua la situazione non è buona per niente Queste frecce qua Questi fischiano C'è poco da fischiare qua Eccolo qua un altro Fischia 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 Beccati sto fischio qua Con coltello in gola Vedi che non fischi più Bello mio Te passa la voglia le fischia Mazzonna ragazzi Allora c'è un altro Eh Dobbiamo fare furtiva Regà non abbiamo più proietti Non abbiamo più niente qua Siamo proprio Nella Cacca Più totale Vieni qua tu Non fare casino Non fare bordello No 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 Chi è che ci sta guardando No che iniziano a fischiare Iniziano a fischiare Dai prendiamo una macchicosa Guardi Allora lì ce n'è un'altra Lo sapevo io che sto parco Era pieno di brutte cose No 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 Vieni vieni Adesso ti faccio fischiare pure a te Bello mio Lo facciamo fischiare In cinese questo Vieni 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 Fischia un po' Fischia questo Mazzonna ragazzi Fischia fischia Non t'ho sentito fischia Mazzonna tutti li devo ammazzare Uno a uno Come i cani No come i cani No i cani non si ammazzano Però è modo di dire Devo ammazzare come Come farei con Con ebby Deve essere le iene Ah queste sono le iene Queste che fischiano Non importa Infatti la Eh Siamo arrivati? E' lui? Va bene Siamo giunti all'ospedale Quelli li abbiamo ammazzati tutti Credo Dove si esce da sto poso? Da qua Questo è l'ospedale? Boh C'è Attention Hospital access Area di quarantena Chiuso Scommetto che è chiusa anche questa State a vedere Enigmini time No ragazzi Garden suites Qua è aperto Garden suites Un altro posto Pessimo Qua sarà pieno Qua sarà pieno di quei cosi Sta a vedere Di quelli Di quelli che Non è che si chiamano Gli stalker Già inizio a darti armi Quindi preparatevi Prepariamoci anzi Gli stalker Stanno arrivando Gli stalker Pensate che rumori strani Va Tengo pronta la pistola Perché già Già Immagino qualcosa di brutto Al massimo Forbici Qua dobbiamo prendere un po' di munizioni Ragazzi Che siamo un po' Un po' così così Lì c'è una scala Cinque ingranaggi Otto ingranaggi Apri porta Chiudi porta Ma dobbiamo salire su Sì Però non abbiamo controllato bene Vabbè dai Andiamo avanti Tanto ce ne ho di roba Per ora Siamo morti pochissime volte Ma Qua non si va più avanti Nope Chiusa Basta i enigmini Per favore E mo Che si fa di brutto? Ah ho capito Capito C'era una finestra qua Dobbiamo rompere Dobbiamo rompere la finestra Entrare qua Ok Altra roba per noi Cos'è qua? Una lettera Se qualcuno Dovesse trovare questo messaggio Mi sta aspettando Nel vecchio centro congressi Tra la Barriera Vi prego portate queste medicine E' incinta Rischia di non farcela Page Mi sa che hanno fatto una brutta fine Danna a me le medicine Che Ne faccio buon uso Promesso Cos'è una cinta? Equipaggio E ci facciamo questa cintura? Boh Fondina arma lunga Ah una fondina Vabbè 20 proiettili Sai che cosa siamo messi con le medicine? Un attimo 84 Vai possiamo fare questo Vai così Ok ora Abbiamo finito le medicine Abbiamo fatto tutto Sai che si Siamo Siamo al massimo Poi c'è da fare crea Potenziamenti mischia Ne ho 20 Facciamolo Crea silenziatori Ah cavolo silenziatori Vabbè dai Intanto la vita Mi sa che l'abbiamo potenziata al massimo Formula Sbloccata Ok ora possiamo potenziare Anche la nostra ascia Che è diventata un'ascia Un po' più potente Al 2 non possiamo portarla Molto bene Questa cosa Mi fa piacere Che abbiamo comunque la vita Per ora al massimo Una cosa che è importantissima La vita Al massimo Guarda quante punizioni Ci sta dando Belli miei Preparatevi Preparatevi un po' Al massimo Abbiamo tutto al massimo Ok dai Andiamo via Qua cosa abbiamo aperto? Siamo ritornati Madonna Apri una porta Niente Eh beh Non è qua la via Quanto pare no Qua non si può fare niente Chiuso Perché ci ha fatto venire fin qua? Per farmi fare il giro tondo Forse c'è un'altra cosa da fare Che non capisco Adesso esce fuori la corda E gg Forse devo andare qua sotto Andiamo di sotto Andiamo di sotto È l'unica Non c'è altro Ospedale Va vai Qua è la via La via dell'ospedale Speriamo che non ci sono porte chiuse Ho gente che fischietta Perché non li sopporto più Quelli che fischiettano Ecco No 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 Non sta a te Chi è? Oi 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 Questi sono quelli che fischiano Oh mio dio Facciamoci sgamare L'hanno impiccata Oh mio dio Ora dobbiamo salvare No io non lo salvo Regà No proiettili L'ha ammazzato Cerchiamo gli smarriti Cerchiamo gli smarriti Vieni vieni Ti faccio smarrire io poi Questa intanto lo faccio smarrire per bene Adesso ti faccio capire io Che c'è qualcosa che No 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 Ma visto ma visto ma visto Cori corri 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 Ellie Nooo Madonna Eh corre Che devo fa' Cammino Guarda che qua non ci vedono Questo è lo recto Vieni qua vieni Abbassati Ellie Abbassati Brava Dobbiamo farla in furtiva qua Questa è sulla re Aspetta sono tanti però Sarebbe che era solo tre Portiamolo in mezzo qua In mezzo alle erbe alte Rectiamolo E buttiamolo di sotto Stai giù Ellie Matunna Chi è che ci stava guardando? Ah è là Adesso ce neanche per te Non ti preoccupare Ah quanti sono Oh mio dio Ok quella si è girata Portiamolo nell'erba alta Vai Rectiamolo Dai dai così si fa Eh per forza ci ha visto Quella di prima Regà Ok Eh Spai ciò Luce accesa qua Dov'è? Dov'è andata quell'altra? Non lo so Sarà qua da qualche parte Non c'è Vabbè Non credo che do mazzare Eccolo Eccolo Forse è l'ultimo Sì sì Silenzio In aula Silenzio in aula È giunta la tua ora My friend Ok Li ho ammazzati tutti? Boh Trorei un modo per andare avanti Va Però non li ho ammazzati tutti Mi sa Mi sa che devo entrare Dentro sto edificio qua Allora c'era qualcun altro Che ho sentito Io voglio Ecco Quello che l'ho impiccato C'era un altro qua in giro Non so dove Sì Ah È qua su Mazzonna Oh quanti kit medici Ragà Puzza di bruciato qua Quanti kit medici Ci ha dato La luce è meglio Che non l'accendo Questi ci vedono Non mi lamento eh Però Quando ti da tutta sta roba È scappata Vabbè dai Vieni qua Mi fa perdere tempo Madonna Ragazzi No Via You get wrecked Vabbè si può risalire Oh Tre munizioni Wait One moment One moment Grazie Scendiamo un po' la luce Regà Io direi Che per questa puntata Possiamo fermarci qua Abbiamo avuto al massimo Vita al massimo GG Stiamo andando bene Dai Non così Non così male Niente dai Ci fermiamo qua Regà Uh Puntatona questa Abbiamo avuto Dei nuovi Dei nuovi Zombie No I stalker Come nemici Una donna I stalker Che sti stalker Erano veramente Comunque GG Stiamo andando avanti bene Abbiamo raggiunto l'ospedale Quasi raggiunto l'ospedale Regà Lasciate un bel like Lasciate un bel commento E noi ci vediamo domani Con la nuova puntata Bella regà